Piotr, raccontaci qualcosa di te. Allora, sono Pio Zygulski, classe 1993, ho finito il liceo scientifico statale di Genova Voltri, Luigi Lanfranconi. Perché Costanzo Preve? Costanzo Preve è un filosofo molto interessante e particolare, purtroppo non molto conosciuto nell'ambiente intellettuale italiano, infatti lui non si considera un intellettuale, ma un filosofo indipendente e un libero pensatore. Costanzo Preve l'ho conosciuto attraverso alcuni saggi, alcune video interviste su internet, mi sono interessato e ho deciso di acquistare alcuni dei suoi libri, da questo interesse che si è venuto sviluppandosi. Ho deciso poi di scrivere una tesina, la mia tesina di maturità, proprio sul suo pensiero. Questa tesina poi è stata notata da una casa editrice, la casa editrice Petite Plaisance di Pistoia, per la quale Costanzo Preve ha scritto numerosi saggi e quindi è divenuto un vero e proprio libro. Vi siete visti con Costanzo Preve, cosa vi siete detti? Sì, Costanzo Preve, io l'ho conosciuto di persona a Torino a gennaio e poi sono andato nuovamente a trovarlo a luglio e siamo in contatto adesso telefonicamente. Ci scambiamo alcune idee filosofiche, alcune cose di attualità, alcune tematiche che mi... Quindi avete tenuto i contatti, è una corrispondenza che continua ancora adesso? Sì, ci sentiamo regolarmente, direi ogni settimana. Cosa dice lui del tuo saggio? Lui è molto contento, dice che si riconosce pienamente in quanto vi è scritto. E adesso sei iscritto all'università? Sì, sono iscritto alla Facoltà di Economia dell'Università di Genova. E la domanda è d'obbligo, come mai non filosofia? Filosofia è molto interessante, purtroppo non riesce, non dà molte prospettive anche dal punto di vista lavorativo. Ad ogni modo Economia mi ha sempre interessato, come materie, come visione del mondo è anche interessante. Hai i tuoi prof del liceo, è piaciuta la tesina? Sì, sì, è piaciuta molto.